Si sta procedendo in queste ore a verbalizzare quanto necessario per l'attivazione del reparto covid nel presidio agropolese. Sarà possibile, molto probabilmente, ospitare pazienti covid di altre strutture già da questo pomeriggio. Nel presidio agropolese sono disponibili attualmente sei posti di terapia intensiva e due di subintensiva, come confermato anche dalla responsabile del reparto covid agropolese, dottorissa Rosa Lampasona. Il personale è quasi al completo, visto che nella struttura prenderanno servizio quattro infermieri della protezione civile specializzati per l'emergenza covid e provenienti da altre regioni. Nelle scorse settimane si è tenuto un incontro tra il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, il ministro della Salute, Roberto Speranza, e il commissario per l'emergenza covid in Italia, Domenico Arcuri. Il presidente De Luca, dopo aver elencato le problematiche legate all'emergenza covid in regione Campania, ha chiesto medici e infermieri per rinforzare il personale medico ed infermieri specialistico campano, così come è accaduto nella città di Milano nel pieno dell'emergenza covid negli scorsi mesi. A quanto pare la richiesta del governatore è stata accettata e attraverso un bando regionale si è riusciti a reperire il personale qualificato e specializzato per far fronte alle esigenze ospedaliere nella provincia salernitana e nel Cilento. Negli ultimi giorni, infatti, per far fronte alle esigenze straordinarie ed urgenti derivanti dalla diffusione del covid-19, in particolare al fine di garantire l'operatività del sistema di ricerca e gestione dei contatti dei casi di covid-19, è stata aperta la procedura per l'individuazione di 1.500 unità di personale disponibile a prestare attività di supporto nelle strutture sanitarie territoriali. Per questo il presidente della regione Campania ha deciso di chiedere alla protezione civile la messa a disposizione, nei tempi più rapidi possibili, di personale medico e infermieristico già utilizzato da governo e commissario nell'emergenza dei mesi scorsi. Per porre in essere il controllo sui territori, i quattro infermieri che sono giunti nella città di Agropoli resteranno nel presidio agropolese per quattro settimane, salvo il protrarsi dell'emergenza covid.